abc youtube ben trovati da marco liguri in questo video parliamo di un violento terremoto di grado 6,6 un nuovo evento sismico in un periodo davvero caratterizzato da tanti terremoti e prima di sapere di più vi ricordo che qualora questo video dovesse superare i 700 mi piace ne pubblicherò immediatamente uno nuovo il 2023 è stato una sorta di anno orribilis per i tanti eventi sismici sotto gli occhi di tutti il terremoto del secolo al confine tra siria e turchia che purtroppo ha fatto oltre 50.000 morti da allora la terra non si è mai fermata e tante sono state le scosse sia in italia che nel resto del mondo e l'ultima in ordine cronologico è una scossa di grado 6,6 che ha colpito panama una forte scossa con epicentro sulla costa del pacifico 72 chilometri a sud di bocca cieca profondità di 10 chilometri al momento le autorità panamensi ci fanno sapere che non è stato diramato nessun allarme tsunami tuttavia resta alto il grado di allerta e tanta è la preoccupazione tra la popolazione nei prossimi giorni nelle prossime ore vi terrò aggiornati informati su questo e su altri eventi sismici amici youtube vi ringrazio per l'attenzione lasciate il vostro commento iscrivetevi al canale condividete questo video seguitemi sulla pagina facebook marco liguori news seguitemi anche sul secondo canale di marco liguori ciao a tutti grazie a tutti